Il cuore della città, sulla centralissima via Pola, si colloca il monumentale edificio intitolato a Enrico Pessina. Tradizioni e innovazione si fondono tra le sue storiche strutture che accolgono le aule e gli uffici del circolo didattico Pessina Vitale. Qui, ogni giorno, si compie un prodigioso lavoro, indirizzato a favorire la crescita culturale e l'arricchimento umano e formativo degli alunni che lo preguentano. La nostra scuola opera all'insegna dell'innovazione, della trasparenza, della flessibilità e della condivisione. Le scelte educative e didattiche intendono promuovere, nel rispetto delle diversità, lo sviluppo della personalità dell'alunno nella sua dimensione cognitiva, affettiva e sociale. La nostra scuola opera all'insegna dell'innovazione si fondono tra le sue storiche strutture che accolgono le aule e gli uffici del circolo didattico. Alla sicurezza. Nessuno spazio rimane invigilato. Nessun ambiente accoglie un numero più elevato di persone rispetto a quello consentito. La scuola dell'infanzia è un contesto in cui i biemi fanno esperienza del crescere insieme, dell'essere parte di una piccola grande comunità che, gestita da persone competenti e sensibili, possa aiutarli a comunicare e condividere, coniugando il sapere al piacere, per sviluppare le proprie potenzialità e ad aprirsi alle voci del mondo. Ci impegniamo ogni giorno per offrire ai nostri alunni l'occasione di esplorare, percorrere, indagare la realtà, perché i bambini imparino a riflettere sulle proprie esperienze, descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. La nostra scuola dell'infanzia è il luogo dove trovano spazio e le attività concrete di manipolazione e sperimentazione degli elementi naturali e dove sono costantemente valorizzate l'immaginazione, l'intuizione e la creatività che il bambino mette in gioco nel loro utilizzo. La nostra scuola dell'infanzia è una scuola per tutti i bambini e le bambine, ciascuno con i suoi talenti e le sue difficoltà, che si apre il mondo favorendo l'attenzione alla scoperta, la voglia di fare nuove esperienze, di esplorare il mondo ed insieme di andare lontano. L'inclusione è il fiore all'occhiello della nostra attività didattica. Da anni si interfaccia con alunni BES, alunni diversabili ed alunni stranieri. Promuove il rispetto delle differenze e cerca di attuare, per quanto possibile, piani di intervento per l'accoglienza e l'inclusione di tutti gli alunni nel tessuto scolastico e sociale. L'aula di psicomotricità intitolata Tiziana Nacci è una grande opportunità risorsa che la nostra scuola offre a tutti gli alunni. Riproduce simbolicamente il corpo della mamma, con zone morbide e spigolose. È colorata e ricca di oggetti come piace ai bambini. Attraverso il gioco il bambino veicola ed estrinseca le proprie emozioni, le proprie esperienze e i propri limiti per raggiungere l'obiettivo principe, la sua onicità in armonia e sintonia con i compagni. Emozioni, emotricità e natura è un progetto ideato e collocato negli spazi aperti dei nostri cortili per permettere a tutti i bambini di veicolare il valore del rispetto per l'ambiente, dello sviluppo sostenibile, della convivenza e della cittadinanza attiva. Il laboratorio è centro di raccordo e di incontro, dove il saper fare, il piacere e la curiosità diventano modelli di vita. Qui si crea, si coltiva, si accodiscono animali, si cresce insieme. Questo percorso vede ogni anno la copartecipazione di enti territoriali extrascolastici, tra i quali il parco Ciuchino-Birecchino, le ali del sorriso e Natura Viva. Tutte le attività di inclusione vengono proposte con modalità accattivanti per una didattica inclusiva, attiva, partecipativa e motivante. In base alle necessità specifiche degli alunni, i docenti intervengono con modalità e strategie didattiche avanzate, usando per esempio libri audio-digitali e tecnologie innovative, che rientrano anche nell'area dei sussidi tiflodidattici. Integrati nel curriculum di base sono pianificati nel percorso formativo numerosi progetti e laboratori, che ampliano e qualificano ulteriormente l'offerta formativa. Tre progetti distintivi spiccano il progetto accoglienza e continuità. Accoglienza è un saluto cordiale, è apertura e condivisione. È il piacere di un incontro tra maestri, genitori ed alunni. La nostra scuola dedica l'inizio dell'anno scolastico ad iniziative, azioni e strategie, che favoriscono un positivo ingresso degli alunni neo-iscritti, sia nell'infanzia che nella primaria. Continuità è il progetto che da anni la nostra scuola mette in campo per accompagnare gli alunni 5 anni della scuola dell'infanzia e gli alunni delle classi quinti della scuola primaria, nel passaggio verso il grado di scuola successivo, in maniera serena, graduale e armoniosa. Continuità vuol dire avere il coraggio di spiccare il volo, sapendo che la nostra scuola ci tiene per bambino. Un altro progetto distintivo della nostra scuola è il progetto Natale. Attraverso attività laboratoriali, gli alunni, guidati dai docenti, si dedicano all'allestimento di presepi, alberi di Natale nei vari plessi e addobbi per gli ambienti scolastici e realizzati con materiali di recupero. L'allestimento e la realizzazione delle vetrate natalizie del plesso Pestina contribuiscono ad illuminare la via principale della città. Quest'anno, tuttavia, per ragioni di sicurezza, il coinvolgimento degli alunni e degli operatori è stato decisamente contenuto. Nonostante ciò, tutto contribuisce a promuovere una forte sensibilità e bellissimi sentimenti interiori. Molti progetti prevedono uscite sul territorio e collaborazioni a vario titolo con associazioni ed enti territoriali per tematiche ritenute particolarmente significative e attuali. Tali progetti offrono la possibilità di partecipare a molteplici attività laboratoriali finalizzate al coinvolgimento attivo e creativo di ciascun alunno con tecniche e metodologie didattiche non convenzionali. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha portato la nostra scuola ad adottare soluzioni che hanno permesso di svolgere a distanza le attività didattiche. Quelli che vedete sono brevissimi esempi di cosa hanno studiato i nostri compagni durante la DAD, grazie a registrazioni audio, slide e file digitali prodotti dalle nostre maestre. L'insegnante, ad esempio, ha presentato la proprietà invariantiva della sottrazione. In mancanza della lavagna di Ardesia, spiega su una lavagna elettronica e manda un video a casa dei propri alunni. Durante la DAD abbiamo anche imparato la lingua inglese. Questa è una lezione sulle parti del corpo, body parts. Divertente, vero? Infine, grazie a questo video prodotto dalla nostra maestra, è stato molto interessante studiare in scienze i semi e i frutti e scoprire come il fiore si trasforma in frutta. Continua l'attenzione ai vari percorsi che aumentano le competenze nella lingua inglese. La nostra scuola partecipa ai progetti e twinning che permettono agli alunni di conoscere nazioni europee, scoprire altre lingue e condividere la loro cultura. Il progetto di una classe è stato sottoposto a verifica da parte dell'Unità Nazionale e Twinning Italia, che lo ha ritenuto ben strutturato e ben pianificato e per tali motivi è stato riconosciuto il Quality Label, certificato di qualità. Ciao bambini, sono Luigi e sono figlio di essere uno studente di questa scuola. Grazie alle mesche ho studiato, lavorato e imparato e sono orgogliosa di aver portato il Circolo Didattico Piscina Vitale. Vi aspettiamo qui per incominciare insieme il nuovo anno scolastico. Le domande di istituzione potranno essere presentate online a partire dal 4 gennaio 2021 fino al 25 gennaio. Vi aspettiamo numerosi. Grazie a tutti.